Il consigliere Alloni ha chiesto di intervenire il consigliere Fiasconaro nella facoltà. Grazie Presidente. Mi andrò a soffermare in particolare sull'articolo 25 di questo progetto di legge Omnibus. L'articolo 25 che appunto tratta il tema della distribuzione della rete del gas e in particolare nella relazione illustrativa dell'articolo 25 si legge nelle prime righe, ma poi si dà un quadro della gestione delle dotazioni strutturali destinate alla distribuzione del gas. Gestione che è normata da vari provvedimenti legislativi nazionali e che segue un determinato iter e quindi gli atem e quindi le gare per la gestione che coinvolgeranno gli enti locali. In realtà però poi l'articolo 25 va a modificare nella sostanza la legge regionale 26 del 2003, in particolare il comma 1 dell'articolo 2, cioè sostiene che alle dotazioni strutturali destinate alla distribuzione del gas non si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della legge 26 del 2003. Quindi che assolutamente non centrano nulla con la gestione ma che centrano con la proprietà e sostanzialmente con questa modifica introdotta dall'articolo 25 si va a prevedere che appunto sostanzialmente la proprietà di queste dotazioni strutturali possa essere ceduta, alienata e spero di utilizzare i termini corretti a terzi anche a privati. Questo è il punto diciamo sostanziale sul quale noi non siamo d'accordo, noi non condividiamo, crediamo che questo tipo di dotazioni debbano rimanere nel patrimonio pubblico, quindi debbano rimanere pubbliche per quanto riguarda la loro proprietà, posto che la gestione è normata con altri iteri, in altre modalità e quindi la nostra posizione è quella di chiedere sostanzialmente l'abrogazione, lo stralcio di questo articolo. Anche perché, e qui è vero, devo riconoscere che in sede di commissione e anche in sede di gruppo di lavoro diciamo distaccato in particolare su questo articolo, è stato profico questo lavoro grazie all'interessamento del consigliere Anelli e grazie anche ai funzionari della DG Ambiente e su questo si è intavolata una discussione e si è arrivati anche a notare il fatto che l'intervento legislativo di Regione Lombardia, in particolare su questo articolo 25, potrebbe essere diciamo in conflitto per quel che riguarda la competenza, perché in realtà dovrebbe essere competenza statale normare questo tipo di questione e il Ministero effettivamente interpellato sul tema non ha fornito diciamo una risposta esaustiva e chiarificatrice diciamo. Quindi per queste ragioni noi riteniamo che sia necessario abrogare questo articolo e magari rimandare a una discussione sostanziale più concentrata sulla legge della 26 del 2003 e a una revisione sostanziale se mai ce ne fosse necessità della 26 del 2003 e faccio notare altresì che qualora si dovesse invece ritenere di non abrogare l'articolo credo sia necessario anche diciamo per rispetto del lavoro che è stato fatto in sede di commissione e anche in sede del gruppo di lavoro quantomeno riformulare l'articolo 25 secondo poi quella formulazione che era stata proposta anche dall'ufficio legislativo che poi in sede di commissione seconda è stata stralciata però vedo essere riproposta con alcuni emendamenti quindi mi auguro che se si dovesse andare nella direzione di approvare questo articolo almeno lo si approvi con le modifiche proposte in primis dall'ufficio legislativo del consiglio modifica che sostanzialmente sottolinea una questione importante e cioè l'indisponibilità di questo patrimonio che non è inalienabile ma è indisponibile e che quindi deve rimanere per le sue funzioni proprie destinate a quello per cui è destinato cioè alla distribuzione del gas. Questo secondo me è fondamentale posto che ovviamente per quanto mi riguarda e per quanto riguarda il gruppo Movimento 5 Stelle in prima battuta deve essere considerata l'abrogazione di questo articolo. Concludo con l'intervento riservandomi di intervenire su un altro emendamento in sede di discussione degli emendamenti. Concludo citando un esempio per chiarire qualora ce ne fosse ancora bisogno il fatto che questa legge è tutto tranne che una legge di semplificazione molto eterogenea che interviene su questioni complesse e articolate e molto diverse tra loro. Cito solo l'esempio della Commissione Ambiente che si è trovata a dover discutere su argomenti appunto diversissimi tra loro tra cui la distribuzione delle reti del gas, i piani cave, i campi elettromagnetici eccetera. Prima la consigliere Barzaghi diceva si interviene puntualmente con questo articolo 25 a modificare una parte della 26 del 2003 e quindi non si rimanda a un intervento sostanziale quindi si fa con un intervento puntuale e si toglie anche organicità e armonia a un dettato legislativo. Questo è vero e si può ritrovare anche su altri interventi che sono previsti con questo progetto di legge. Cito per esempio solo a titolo di esempio l'emendamento 42 che interviene sulla legge regionale 14 del 98 la legge che regolamente istituisce i piani delle cave che interviene puntualmente con un riferimento appunto puntuale e che secondo noi non condivisibile e tra le altre cose quindi toglie anche qui organicità e armoniosità al dettato legislativo. Tra l'altro sia in commissione ambiente che in commissione seconda ci si era lasciati diciamo con l'auspicio condiviso da tutti e anche mi sento di dire dal gruppo Movimento 5 Stelle di evitare questo tipo di interventi sulla 14 del 98 ma di prevedere una revisione sostanziale e organica della legge con una discussione appunto più organica in commissione che potrà essere avviata da qui ai prossimi mesi. E quindi mi auguro che anche questo emendamento che ripeto ho citato solo a titolo di esempio perché ne potevo citare molti altri possa anche questo essere respinto rimandando a un'analisi più organica e con più specie sulla legge in questione. Grazie.